Almodovar torna a raccontare se stesso, l'aveva fatto nella Maleducation e chi l'ha visto ricorda che forse era uno dei suoi film con, se si passa il termine, col freno tirato a mano, cioè dovendo parlare di sé faceva più fatica, era più rigido, si lasciava meno andare. Questa volta invece con Dolori Gloria, segnato già dal titolo che è proprio la definizione di quello che poi uno vedrà nel film, ha avuto più coraggio, si è lasciato andare alle emozioni e soprattutto ha trovato, come aveva fatto Fellini con Mastroianni, l'attore giusto che lo rappresentasse sullo schermo, ha preso Banderas, un Banderas invecchiato, non imbolsito, anche qui se si passa il termine come ormai sta diventando un po' Pedro, però un invecchiato, maturo e con dentro tutta l'esperienza di una vita che come quella del regista ha visto momenti di gloria, ma ha visto anche momenti di dolore, soprattutto sul piano affettivo, c'è un rapporto amoroso di Almodovar nel film, raccontato proprio a cuore aperto e credo che sia uno dei momenti in cui Almodovar di tutta la sua cinematografia ha saputo emozionare di più.